Ho cambiato broker. Come sapete ho sempre usato DeGiro, che è un broker olandese, quindi diciamo europeo, con cui mi trovavo bene. Infatti ne ho parlato anche sul canale, trovate la recensione qui sotto in descrizione e anche qui in alto. Personalmente ritengo che DeGiro abbia ben pochi concorrenti e allora perché ho cambiato broker? Beh, ne parliamo dopo la sigla. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Pietro e perché ho cambiato broker? Su questo canale ho sempre cercato di far passare il messaggio che esistono indubbiamente broker migliori di altri, ma non esiste il broker migliore in assoluto. Dipende tutto, in ultima battuta, da noi, dai capitali che dobbiamo muovere, dal numero di operazioni che dobbiamo fare, dai mercati che ci interessano, dai prodotti che ci interessano. Dipende da tantissimi fattori. Quindi ci sarà sicuramente un broker schifoso, ma ci sarà poi un broker più adatto a noi e uno meno adatto a noi. Quindi ho deciso di fare questo video sì per farvi vedere cosa sto facendo, ma anche per farvi vedere come, in un certo senso, scegliere un broker in base alle proprie esigenze. Piccola premessa, continuo a ritenere DeGiro un ottimo broker, non è che sia successo qualcosa in particolare per cui l'ho abbandonato, anche perché non l'ho abbandonato. Lo continuerò a usare per altre cose e a fine video vi spiego come mai, perché appunto ha delle potenzialità uniche e non sfruttarle è veramente un reato. Quindi continuerò ad usarlo, ma per altri motivi. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo, e vediamo i motivi per cui appunto DeGiro iniziava a starmi stretto, in un certo senso. Il primo problema, se così vogliamo definirlo, è che su DeGiro non ci sono opzioni americane. Su DeGiro infatti è possibile sia acquistare opzioni su titoli europei o al massimo, al massimo su Future, quindi per esempio anche su indici americani, come possono essere l'S&P, il Dow Jones, il Nasdaq, ma non su singoli titoli. Quindi non posso per esempio comprare un'opzione su Amazon. Prima che me lo chiediate, no, non faccio trading di opzioni e non ho intenzione di farlo. Con le opzioni C si può fare trading, va benissimo, ma le si può anche usare per investire. Possono essere ad esempio utili a scopo copertura, quindi come cuscinetto nel caso le cose si mettano malissimo e in modo improvviso. Oppure possono essere utili per posizionarsi al rialzo in un modo alternativo, diciamo, magari vendendo delle opzioni così da raccogliere il premio e usare quel premio per posizionarsi al rialzo in modo scontato. Ve la sto semplificando tantissimo perché non è un video sulle opzioni, però vi voglio anche far capire che sono cose abbastanza avanzate. Il modo più semplice e per quanto mi riguarda consigliato per posizionarsi long al rialzo su un titolo è quello di acquistare il titolo, non certamente di fare strategie strane di opzioni. Infatti le opzioni hanno la conseguenza di usare l'effetto cosiddetto leva. Quindi investendo un capitale più basso riusciamo a ottenere risultati più alti, sia al rialzo che al ribasso. Quindi se siete dei principianti, se non sapete cosa sono le opzioni, come funzionano, non lanciatevi in cose strane, in strane avventure, evitate. Secondo punto, la liquidità. De Giro investe tutta la liquidità in fondi monetari, che per chi non sapesse cosa siano, sono sostanzialmente dei fondi di obbligazioni a brevissima scadenza. Il fatto è che avrete già sicuramente sentito, magari da qualcuno, che le obbligazioni in questo momento in Europa pagano dei tassi negativi. Di conseguenza detenere liquidità su De Giro porta ad avere dei tassi negativi. Capiamoci, non si parla di chissà cosa, ma siamo intorno allo zero virgola, però comunque ci sono questi tassi negativi. De Giro, per sopperire a questo problema, vi viene incontro e quindi se avete liquidità fino a 2500€, non subirete nessun tipo di perdita, perché De Giro compensa questa perdita di tasca sua. Se però avete più di 2500€ in liquidità su De Giro, e beh, in questo caso dovrete pagare gli interessi negativi. Che belli i tassi a zero, eh? E siccome al momento ho decisamente più di 2500€ in liquidità, perché come sapete non mi sono ancora posizionato granché al rialzo e non ho intenzione di farlo in realtà a questi prezzi, a meno che le cose proprio non cambino drasticamente, beh, voglio avere la possibilità di avere tutti questi soldi sul broker senza incorrere in interessi negativi. Alcuni potrebbero giustamente dirmi, ma scusa, non puoi versarli sul broker quando ti servono e quindi normalmente tenerli in banca dove non hai questo tipo di problema? Certamente, ma dovete anche pensare alla situazione attuale e molto particolare che stiamo vivendo adesso, quindi altissima volatilità sui mercati. In questo caso un bonifico quanto ci mette normalmente? Due, tre giorni lavorativi, però i mercati fanno più quattro, meno quattro in un giorno, quindi non posso permettermi di aspettare tre giorni perché se un titolo raggiunge il prezzo che voglio lo devo comprare e non posso aspettare tre giorni. In una situazione di mercato normale, per esempio, aspettare due o tre giorni lavorativi non fa granché differenza, ma in questa situazione molto volatile sì, quindi preferisco avere la possibilità di avere tutta la liquidità che mi pare sul broker senza incorrere in alcun problema. Terzo e ultimo piccolo problema relativo a De Giro, i titoli poco capitalizzati. Mi è capitato a volte di analizzare dei titoli che reputavo interessanti, magari anche italiani, però poi andavo su De Giro e questi titoli non c'erano. Mi è capitato solo con titoli molto poco capitalizzati, quindi nell'ordine di magari poche decine di milioni, al massimo un centinaio di milioni di dollari, che sono cifre molto molto piccole, e in questo caso su De Giro non li ho trovati, quindi non potevo materialmente investirci. Però, lo sapete, ormai mi conoscete, a me piace andare a scovare un po' quelle opportunità dove non batte il sole, di cui praticamente nessuno parla, quindi voglio avere la possibilità di comprare tutto quello che mi pare. Mi è capitato anche, per esempio, con dei mercati lontani, quindi magari qualcosa nell'est Europa, qualcosa nel sud-est asiatico, e in questo caso non c'erano dei titoli magari quotati a Singapore, quindi voglio avere la possibilità di comprare qualsiasi cosa senza che ci siano limitazioni. Anche in questo caso, piccolo disclaimer, occhio quando andate in mercati poco liquidi, in mercati dove l'informazione da reperire è molto più difficile, perché ad esempio per titoli piccoli in mercati esteri non basta andare su Yahoo Finance e vedere, perché 9 volte su 10 o non ci sono dati o sono sbagliati. Quindi, in questo caso, investite in aziende del genere solo se sapete reperire i dati, altrimenti lasciate stare. Bene, 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 ma quindi quale broker ho scelto? Li ho guardati praticamente tutti e alla fine ho scelto Interactive Brokers. Non è perfetto, ha anche lui dei punti negativi e infatti mi ha quasi dato fastidio dover passare a un altro broker che aveva altri difetti, perché ho detto, vabbè, ma scusa, a questo punto che senso ha? Però, in realtà, per le esigenze che ho in questo momento, alla fine andava bene. Comunque, giusto per citarne alcuni, la gestione fiscale su Interactive Brokers è molto più costosa. Il commercialista per Interactive Brokers è decisamente più caro rispetto a DeGiro, dove praticamente non dobbiamo pagare nulla. Inoltre, le commissioni su alcuni mercati sono molto più care su Interactive Brokers, per esempio sul mercato italiano. Però, di nuovo, per le esigenze che ho in questo momento, preferisco. Farò sicuramente più avanti un video su Interactive Brokers, quindi dove andrò a parlare un po' della piattaforma, di cosa ne penso, quindi iscrivetevi nel caso, appunto, non vogliate perdervelo. Però intanto voglio studiarmelo ancora un po'. Ho detto però a inizio video che voglio continuare a usare DeGiro. Ma che senso ha, scusa? Non ho appena detto che sono passato a Interactive? Sì, ma lo userò in modo diverso. A inizio anno qualcuno si ricorderà che avevo detto che avevo intenzione di iniziare un piano d'accumulo, quindi investire regolarmente una parte dei miei ricavi ogni mese. E per farlo ho intenzione di usare proprio DeGiro, perché è veramente perfetto per questo scopo. In primo luogo preferisco avere due broker diversi, per due tipi di operatività che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Da una parte sono investimenti di tipo attivo, quindi dove si va regolarmente a monitorare tutto, a inserire, togliere posizioni. Dall'altra sono investimenti passivi, ad accumulo, che continui a comprare e a comprare in modo relativamente passivo. Ho paura quindi che avendo tutto all'interno dello stesso conto, possa magari essere spinto a gestire la parte passiva in modo troppo attivo, quindi magari ribilanciando troppo, cose che con un piano d'accumulo bisogna evitare. Poi altro punto a favore di DeGiro per un piano d'accumulo. Le commissioni, le commissioni su DeGiro sono veramente bassissime, soprattutto per quanto riguarda gli ETF. E terzo punto, gli ETF. Ho detto che su Interactive non mi è mai capitato di non trovare un titolo azionario, ma mi è capitato più volte di non trovare degli ETF. Gli ETF che infatti noi cittadini italiani possiamo comprare sono quelli pensati per il mercato europeo, ma Interactive Brokers è un broker americano con anche base in Inghilterra, quindi è normale che certi prodotti pensati proprio per il mercato europeo non ci siano, perché non hanno motivo quelli che usano Interactive Brokers di andare ad esempio a comprare prodotti europei, se sono inglesi o americani. Però su DeGiro io gli ETF li ho sempre trovati, quindi per un piano d'accumulo se c'è più scelta su DeGiro, secondo me ha più senso usare DeGiro. Vi parlerò a giorni di questo piano d'accumulo, vi dirò esattamente come l'ho fatto, come lo voglio gestire, con che frequenza, quindi iscrivetevi se non volete perdervelo. Inoltre ragazzi vi lascio qui in alto il profilo Instagram, passate a trovarmi e li metto tutti gli aggiornamenti dei video che usciranno, cose, storie, quindi insomma passatemi a trovare. Noi quindi ci vediamo al prossimo video, io vi saluto e ciao ciao!